Cosa però che è veramente agghiacciante direi per tutti gli italiani è che Alfano si rifiuti di venire a spiegare che cosa è successo realmente a Roma prima dell'estate, cosa si prende le ferie, ne parliamo dopo. Io capisco che abbia un imbarazzo, è evidente. Anche perché ha detto che tecnicamente io sono pronto, ha detto. La situazione probabilmente si sarebbe dimesso già con le cose uscite sui giornali, ma l'avrebbero preteso il PD in primis alla sua dimissione.